Buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento del secondo giorno, in effetti ieri secondo me è un po' più che un fuori conferenza, è stata proprio una conferenza vera e propria che ha in buona parte toccato quello che almeno dalle prime ore della conferenza nazionale non sembra essere emerso o comunque focalizzato a corrente alterna e magari più avanti, credo, nella giornata potremo avviare un minimo di valutazione di quello che abbiamo ascoltato. Ieri abbiamo parlato della legge italiana relativamente alle sostanze stupefacenti, il test 309 del 1990, le proposte di iniziativa parlamentare che sono state presentate in questa legislatura e che in teoria sono davanti alle commissioni giustizia e affari costituzionali, con tra l'altro delle apprezzamenti ricevuti stamattina da Cafiero Derao relativamente in particolare ad alcune delle possibilità di attenuare i fatti di lieve entità che sono all'interno della proposta di legge di Riccardo Maggi che era con noi ieri. Abbiamo poi ascoltato, grazie a chi usa le sostanze, il perché, il per come, come ci si arriva a livello nazionale, a livello personale e come gli stili, gli usi e quindi i consumi siano cambiati negli anni e grazie a Peter Cohen siamo tornati ad affrontare la questione dal punto di vista anche per certi versi metodologico con la necessità di avanzare delle ricerche che mettano da parte, anche se forse in maniera un po' troppo brutale, la parte medica, ma insomma capisco l'approccio di Peter che da anni è quello che lo accompagna, ma ci ha fatto fare anche a noi che non avevamo 35 anni fa quel livello o quella possibilità di interazione con un mondo che veniva esclusivamente stigmatizzato e assimilato al tunnel che però mi pare vada ancora di moda e comunque alla droga uguale morte e poi alla fine abbiamo parlato delle esperienze internazionali. Ecco, il libro che presentiamo oggi e che è uscito questa primavera, che è sentito La Londa Verde, scritto da Leonardo Fiorentini, mette insieme la dimensione nazionale e la dimensione internazionale di quella che è diventata ormai la bandiera, io direi, di questo secondo, anzi terzo decennio degli anni 2000, è la bandiera della cannabis. Se uno ha modo di controllare un po' i siti di informazione internazionale conoscendo la parola cannabis in tre o quattro lingue, perché non tutti la chiamano così, anzi forse siamo solo noi che la chiamiamo così, da quando abbiamo capito che una questione alle volte meramente o prettamente nominalistica riesce a mantenere in un determinato contesto tutti i ragionamenti che la circondano. Il passare dalla marijuana alla cannabis, sicuramente non esclusivamente per una modifica lessicale, ma anche per segnalare che non c'è soltanto quella della strada, ma c'è anche quella dei campi che può finire in industria o quella che può essere utilizzata da delle persone che hanno dei problemi di salute, ci ha fatto se non altro de... non dico depoliticizzare, ma insomma sdoganare un po' di più questa pianta. Altrove il problema resta, negli Stati Uniti continuano a chiamarla tranquillamente marijuana o anche medical marijuana quando si parla di quella della salute, nel mondo ispanofilo si chiama cagnamo e se uno riesce a seguire cagnamo piuttosto che cannabis, vede che arrivano tantissime notizie. Solo nelle ultime due settimane la legalizzazione in Lussemburgo e l'annuncio l'altro giorno della costituenda coalizione semaforo, giallo-rosso-verde, che sosterrà il prossimo governo tedesco, hanno fatto tornare un'altra volta di prepotenza il tema della cannabis sul dibattito mediatico più che sul dibattito pubblico, o meglio nei paesi in cui stanno andando avanti, sicuramente è stata parte integrante del dibattito pubblico perché altrimenti da una parte non avrebbero legalizzato e dall'altra non avrebbero messo tra i punti fondamentali dell'accordo per sostenere il governo la cannabis. Parentesi, quando in Germania si fanno questo tipo di accordi poi si mantiene la parola data nel momento in cui si mettono nero su pianco i punti per cui si fa la coalizione tra partiti molto diversi e sono molto diversi in particolare i verdi e i gialli su tantissime questioni ma su questa finalmente sono riuscito a trovare un terreno comune. Ci sono poi altre, abbiamo sentito ieri l'esperienza a parte dei paesi extraeuropei, Canada e addirittura Stati Uniti con il congresso che è pronto a riprendere il cosiddetto MORE Act, ma paesi dell'Unione Europea come Malta che stanno avviando un processo di regolamentazione legale, che magari non è il miglior modello di legalizzazione che si potesse avere, però è qualcosa che accade. Quello che, e con questo concludo la mia introduzione, io credo vada riconosciuto al libro di Leonardo, a tutti i libri che sono sul tavolo là e in particolare al libro dei libri per quanto si parla di droghe in Italia, al libro bianco sulle droghe, è che chi dedica le proprie giornate a scrivere, a studiare, a raccogliere, a ricercare, a pubblicare, non lo fa esclusivamente con un intento educatore pedagogico, ma lo considera una parte fondamentale dell'azione politica. Noi da molti anni basiamo le nostre proposte, a parte, chi più chi meno, su una filosofia, una filosofia politica antiproibizionista più o meno radicale, che si possa così riassumere, sui dati, dati che ci arrivano da esperienze molto lontane da noi, che non avremmo mai immaginato per certi versi, perché gli Stati Uniti sono rimasti il nemico di chi faceva la controguerra, la guerra alla droga, ma che ci confortano nell'impostazione che ormai da 30 anni abbiamo, cioè quella della critica dell'impianto penale di questo modo di governare il fenomeno. Ecco, sono libri che fanno parte di un movimento che 30 anni fa forse era un vero e proprio movimento di piazza con manifestazioni, con marce e con grandi disobbedienze civili fino alla fine degli anni 90. Adesso è un po' meno fuori dai palazzi, è entrato però nelle librerie, perché veramente escono tantissimi libri su questi temi e ne parleremo anche più avanti in giornata, ma fanno parte integrante di un'azione politica che secondo me è l'elemento in più rispetto a tante altre esperienze che ci sono in Europa, dove forse la politica istituzionale o quella dei partiti è più attenta ad alcune questioni, ma la società civile limita i suoi suggerimenti ad altri su come agire, ma al momento del dunque, forse perché mancano gli strumenti per poterlo fare, non lo fa noi. Questi strumenti, laddove ce li abbiamo voti, li abbiamo utilizzati, una legge di iniziativa popolare cinque anni fa, il referendum cinque settimane fa e continuiamo a insistere non soltanto criticando, ma anche proponendo. Andrei con Leonardo. Sì, facendo una battuta che sarà cara a Marco, il popolo si è spostato dalle piazze allo speed. No, io partivo da una cosa che è successa stamattina qui a Genova, alla conferenza governativa, ovvero la dichiarazione senza se e senza ma della ministra Gelmini di essere contraria alla legalizzazione, che se non sbaglio è stato il primo concetto, dopo i saluti di diritto espresso dalla ministra, ed è stato sufficiente quello. Non è che ha avuto bisogno di motivare in qualche modo, anche perché le motivazioni avrebbe fatto fatica a trovarle, soprattutto in una situazione in cui, come ricordava prima Marco Perduca, l'onda verde, prendendo il titolo del libro, sta arrivando con forza in Europa, perché al di là dei 19 stati, degli Stati Uniti che hanno legalizzato più Washington DC e Guam, isole Vergini e non mi ricordo chi altro, la legalizzazione in Uruguay e in Canada, il fatto che in Lussemburgo si stia avviando alla legalizzazione, Malta, anche lì ci diceva ieri l'esponente di Relief, è in discussione in commissione in seconda lettura, per cui siamo vicini a una regolamentazione legale dell'uso personale e dei Cannabis Social Club, che comunque è un passo verso la regolamentazione, ma soprattutto questa notizia della Germania ci fa pensare che quella che appunto noi da lontano vediamo come un'onda stia arrivando come uno tsunami in Europa, perché nel momento in cui la Germania davvero legalizzasse, in tempi immaginiamo non lunghissimi, porrebbe al centro dell'Europa un serio problema politico, nel momento in cui comunque anche i trattati europei, in questo caso le decisioni di coordinamento rispetto alle politiche sulle droghe e alle politiche penali sulle droghe, comunque non hanno ancora introiettato al loro interno la possibilità di una regolamentazione legale delle sostanze evitate da convenzioni. Ieri del resto abbiamo fatto prima il punto di come tutto questo processo di legalizzazione stia arrivando non in barba le convenzioni, ma sfruttandone diciamo quella che è definita dal 2016 in poi, cioè da quando gli stati si sono riuniti sotto pressione di Guatemala, Messico, Colombia ed altri, cioè i paesi più colpiti col sangue dalla guerra alla droga, a New York hanno deciso di mettere nero su bianco per la prima volta nella dichiarazione finale che poi sappiamo è stata assunta all'inizio della riunione, ma questi sono solo dettagli della diplomazia a livello planetario, appunto hanno messo nero su bianco la flessibilità delle convenzioni, flessibilità che è necessaria nel momento in cui le convenzioni in sé, come abbiamo visto ieri, sono difficilmente riformabili formalmente. Stiamo parlando di c'è la possibilità perché esistono gli strumenti per farlo, per modificare le convenzioni, ma devono essere queste modifiche approvate da tutti gli stati. Uno stato può sfilarsi e può rientrare, ma anche qui, come è successo con la Bolivia, per la foglia di coca. La Bolivia nel 2009 ha inserito la foglia di coca come pratica tradizionale delle popolazioni indigene in Costituzione, si è ritirata dalla convenzione e poi ha richiesto di essere riammessa con l'eccezione appunto del divieto della masticazione della foglia di coca. È stata riammessa ma in quel caso ci fu un tentativo di non riammetterela perché bastavano 18 stati per appunto evitare che la Bolivia fosse riammessa lì per una serie di coincidenze, compresa il momento di cambio di presidenza fra Bush Junior e Obama. Gli Stati Uniti alla fine non arrivarono al dunque. Per cui modificare convenzione è tecnicamente possibile, è politicamente molto complicato anche perché le stesse convenzioni del 61, del 71 e dell'88 hanno una base esclusivamente ideologica e anche la loro perseveranza di applicazione è basata sull'ideologia perché se oggi facessimo i conti e li abbiamo fatti, li hanno fatti in particolare le ONG che si occupano di droghe a livello internazionale e poi lo facciamo noi ogni anno a livello nazionale col libro bianco, il fallimento del sistema di regolamentazione delle droghe che c'è oggi ovvero la proibizione è evidente e sotto gli occhi di tutti. La convenzione del 61 diceva che entro l'84 dovrebbero essere eliminate tutte le coltivazioni di canapa e cocaina e dentro il 1989 di Oppio. È evidente che ciò non è successo. Nel 98 Pino Arlacchi lanciò lo slogan un mondo senza droghe possibile in dieci anni, possiamo farcela, non ce l'abbiamo fatta in dieci, nel 2009 se ne sono dati altri dieci ma evidentemente non bastavano tanto che poi appunto nel 2016 si sono riconvocati ma se facciamo solo i conti dal 98 al 2018 per cui vent'anni dopo quella dichiarazione di Arlacchi le produzioni di tutte le sostanze sono decomplicate. Il numero delle sostanze è aumentato a dismisura perché noi oggi parliamo di nuove sostanze psicoattive di NPS che non sono la chetamina che ormai è usata da decenni o la MDMA. Ugualmente stiamo parlando di sostanze di sintesi che sono l'esemplificazione di come il previsionismo sia un cane che si morde la coda ovvero nel momento in cui viene evitata una sostanza c'è una ricerca di nuove sostanze chimiche di sintesi prodotte con piccole variazioni di composizione chimica. Io non sono un chimico e la chimica è sempre stata una mia nemica scolastica per cui non sto a spiegare come. Vengono introdotte sul mercato illegale finché non vengono trovate due o tre anni dopo vengono poi inserite nelle tabelle ma nel frattempo hanno fatto i loro danni perché molto spesso pensiamo solo ai cannabinoidi sintetici sono molto ma molto più pericolose rispetto agli originali e tutte queste nuove sostanze psicoattive non fanno altro che replicare gli effetti delle sostanze naturali che sono state evitate nel 61 ovvero cannabinoidi, coca, alcolloidi e opioidi. E come vediamo e come dimostra anche l'epidemia di morte di overdose che c'è negli Stati Uniti, adesso non mi ricordo il dato del 2020 in questo momento però negli ultimi tre anni sono morte 210 mila persone negli Stati Uniti per overdose, la gran parte per oppiacei sintetici e quindi di fatto derivanti da una ricerca chimica che è stata fatta per cercare di aggirare le convenzioni. Ho fatto una parentesi molto lunga per cui mi sono dimenticato dove volevo andare a parare. Quello che vuol dire che appunto il provisionismo è un cane che si è un'esercizio della coda e che oltre ad essere aumentate la quantità di sostanze prodotte e il numero di queste sostanze, le persone che consumano droghe nel mondo sono aumentate dal 98 al 2018, perché sono riuscito a ricordarmi da dove sono partito, sono aumentate più del doppio della popolazione mondiale, a un ritmo più che doppio della popolazione mondiale, ovvero il provisionismo ha fallito in tutto nel limitare la produzione e nel limitare la domanda. Pian piano di fronte a questo fallimento e di fronte anche alle evidenze scientifiche che venivano dall'uso in particolare terapeutico della cannabis e in particolare negli Stati Uniti, dove dal 96 in poi dal referendum in California si è avviata una riforma, in particolare per gli usi terapeutici delle leggi dei vari stati, si è capito che probabilmente quella che prima era una pianta demoniaca, citando Hanslinger, non era in effetti una pianta che faceva male, faceva solo male, poi qualche danno lo fa, ma siamo i primi a indagare su questi. È una pianta che fa anche bene, con Marco scrivemo nel 2016 un libretto, la cannabis fa bene alla politica, fa bene anche al corpo, è stata pian piano applicata a numerose patologie e le persone incontrandola non più come sostanza demoniaca, ma come sostanza che cura i propri nonni, i propri zii, le proprie madri, ha cominciato ad accorgersi che in effetti non solo non è quella apertura verso il tunnel della droga che citavamo prima, ma anzi è una sostanza che può aiutare l'uomo e del resto condivide con l'uomo almeno 5.000 anni di storie. In questo senso negli Stati Uniti l'opinione pubblica ha cominciato a cambiare idea. Nel 2013, ovvero, no scusate, nel 2011, prima dei primi referendum per l'uso ludico della cannabis in Colorado, in Washington DC, la popolazione statunitense era a favore della legalizzazione solo in una percentuale del 40-41%, oggi dopo che, appunto, dopo quei referendum e dopo tutta una serie di referendum sono oggi 19 gli Stati che hanno legalizzato il 43% della popolazione americana vive in uno Stato che ha legalizzato la cannabis per tutti gli usi, questa percentuale è salita al 68%, che è una percentuale ormai record ed è stabile perché poi le regolamentazioni legali hanno poi pian piano sfatato tutti quei miti che negli anni il proibizionismo aveva costruito. Non è vero che la cannabis fa i buchi nel cervello, non è vero che la cannabis fa aumentare gli incidenti stradali, non è vero che fa aumentare il consumo fra i giovani. Ieri il rappresentante dell'Uruguay, che è stato il primo Stato che ha legalizzato la cannabis nel 2013 grazie al governo Mujica, oggi non c'è più la maggioranza di Mujica a guidare il Paese eppure non mi risulta che abbiano messo in discussione quella riforma, ebbene nell'Uruguay i dati ci dicono che non è aumentato il consumo in modo stratosferico come si pensava, ma soprattutto l'età media di primo accesso alla sostanza è aumentata e anche la percezione del rischio rispetto alla sostanza è aumentata. Perché da un lato si è tolto il tabù e quindi uno dei principali motivi di interesse da parte dei giovani e degli adolescenti in particolare, ovvero quello di violare le regole e i tabù, è venuto meno e quindi uno sa che a 18 anni comunque potrà consumarla, non diventa più una sfida al potere costituito il fatto di consumare cannabis. Non solo, il fatto di poterne parlare in modo aperto perché è una sostanza legale come da noi è legale l'alcol, ha permesso da un lato di fare reale prevenzione e informazione per prevenire gli usi problematici, per capire quali sono i reali effetti della sostanza dall'altro, e qui Susanna è molto più brava di me a spiegarcelo, ha permesso pian piano di rendere aperta e pubblica quella che è un controllo sociale della sostanza, ovvero una cultura del consumo che come da noi lo è per l'alcol, in cui quasi i bambini, io mi ricordo mi fu offerto il primo bicchiere di vino anacquato che rifiutai sdegnosamente a 8-10 anni in un campeggio, che educa all'uso io poi cominciai a bere alcol a 27 anni, per cui sono in questo caso un consumatore molto tardivo con pesare al cannabis, anche lì Peter Cohen sulle traiettorie di consumo ci avrebbe insegnato qualcosa permette una maggiore efficacia nel insegnare alle persone come approcciare una sostanza che comunque approccierebbero, perché appunto i consumi con la provvizione non diminuiscono ma anzi come abbiamo visto aumentano e con invece un approccio che è quello pragmatico di conoscenza dei rischi, degli effetti e delle conseguenze dell'uso di cannabis invece questo si permette di arrivare a risultati come quelli dell'Uruguay, come quelli del Canada dove il consumo fra i più giovani, fra gli adolescenti è diminuito adesso i dati dopo il primo anno erano addirittura eccezionali, nel senso che dal 2018 al 2019 i dati di Statistic Canada davano un dimezzamento dei consumi fra i minori di 18 anni nel 2020 questo dato è stato riportato diciamo a un dato statisticamente più corretto ed è comunque una diminuzione del 10% del consumo fra i più giovani per cui non si alzano, anzi diminuiscono e lo stesso trend c'è negli Stati Uniti in tutti gli stati che hanno legalizzato la cannabis non so se sono stato un po' lungo abbastanza siamo un po' in ritardo, si mancano 8 minuti trovate nel libro tutto 10 miti e fatti che sono stati sbugiardati con i dati che provengono dai stati che hanno regolamentato uno fra questi mi piace sempre ricordarlo perché poi nel pomeriggio alle 6 parleremo anche con un po' di amministratori locali è uno dei grandi problemi che abbiamo nelle città è quello del degrado legato ai luoghi di spaccio e o di consumo il dato interessante è secondo me da riprendere e studiare un po' meglio è il fatto che con la legalizzazione non c'è maggiore degrado ovvero intorno ai negozi, intorno ai dispensari di cannabis non vi è maggiore degrado anzi nel momento in cui si chiudono questi dispensari c'è un aumento della criminalità addirittura intorno ai dispensari e intorno ai luoghi in cui viene venduta cannabis il valore degli immobili aumenta rispetto agli altri luoghi perché dell'8-10% mica niente e questo perché ormai la cannabis e anche durante il lockdown alcuni stati l'hanno messo nero su bianco la vendita di cannabis è un servizio e come tale viene percepito dalle persone che vogliono vivere quel cartiere come dagli stati tant'è che in molti stati i dispensari e i negozi per cannabis non sono stati chiusi durante il lockdown ma sono rimasti aperti per permettere appunto alle persone di poter avere la sostanza questo ci fa dire che oggi così concludo il procuratore nazionale antimafia ha detto che l'impianto del test unificato Maggi Molinari da cui Molinari poi si è sfilato è un impianto che risponderebbero alle richieste del primo tavolo della conferenza presentate da Leopoldo Grosso è arrivato in questo momento Riccardo Maggi per cui lo salutiamo stavamo giusto parlando del suo progetto di legge questo è un fatto positivo però conseguenza ne vorrebbe che il governo lunedì prendesse quel testo ne togliesse le parti comunque diciamo non congrue in modo innalzamento delle pene per la tabella 2 e lo portasse velocemente in consiglio dei ministri per l'approvazione di un decreto legge cosa che dubito avverrà ma per fortuna grazie a Marco Perduca e al comitato produttore per il referendum c'è un referendum che domani per cui domani scade il termine per cui la Cassazione possa contestare o meno delle irregolarità per cui entro il 15 di gennaio la Cassazione se non trova irregolarità debba trasmetterlo alla Corte Costituzionale e dentro febbraio la Corte Costituzionale giudicare l'ammissibilità se il governo non interverrà se il Parlamento non interverrà saranno i cittadini a farlo con un quesito che è molto chiaro che chiede di fatto di trattare cannabis la cannabis come alcol e tabacco di depenalizzare completamente la coltivazione d'uso personale e di rimuovere almeno la sanzione amministrativa del ritiro della patente ci auguriamo che quasi ci dovremmo augurare che di non arrivare al referendum ma crediamo che quel momento in cui questo tema andrà nel dibattito pubblico per un voto democratico potrà essere un momento di grande dimostrazione di grande maturità della società italiana che come dimostrano anche gli ultimi sondaggi è favorevole per il 58% alla legalizzazione mi fermo e passo la parola a Susanna grazie lapidaria anche perché tra 5 minuti mi dovete riascoltare di nuovo su un'altra cosa non vorrei esagerare quando Leonardo stava costruendo questo libro abbiamo valutato insieme che forse era utile includere i risultati di una ricerca che come forum droga avevamo condotto l'anno prima un anno e mezzo prima nell'ambito di un progetto europeo che si chiamava NARP che in italiano significa nuove prospettive per le pratiche della riduzione del danno e grazie a questo progetto abbiamo avuto la possibilità di condurre una ricerca in Italia in Belgio e in Spagna anzi in Catalogna per la precisione attorno alle pratiche alle strategie alle modalità di consumo di cannabis con attenzione quelle che erano le strategie di autoregolazione dei consumatori cioè la domanda era intanto quali erano i modelli di consumo di queste persone che abbiamo intervistato ma soprattutto quali erano le strategie per tenere i loro consumi sotto controllo è interessante dirsi che cosa quando noi facciamo queste ricerche sull'autoregolazione cosa intendiamo per tenere sotto controllo il proprio consumo e non posso che ribadire il concetto che ha proposto riproposto Peter Coyne ieri che è quello di un consumo funzionale funzionale alla propria vita in generale alla propria vita personale sociale e funzionale agli obiettivi del proprio consumo quindi il controllo non è una misurazione etero definita se chissà su quali standard e chissà da chi ma è una definizione riferita alla soggettività alle intenzioni e ai significati agli obiettivi della persona questa ricerca ha messo anche a confronto tre realtà nazionali relativamente diverse come l'Italia la Spagna e il Belgio abbiamo costruito una mappa di strategie personali per tenere il proprio consumo regolato secondo le proprie intenzioni vi rimando al testo del libro su questo ma insomma sono strategie fortemente ancorate alla propria quotidianità e alla propria vita per cui un uso è funzionale quando ci permette di raggiungere gli obiettivi che abbiamo di piacere di socialità e di introspezione insomma nella ricerca sono emersi tantissimi obiettivi diversi ed è un uso regolato nel momento in cui non mette in crisi aspetti della nostra vita personale che ci stanno a cuore quindi trovate delle storie in cui si parla della propria attività lavorativa della propria genitorialità del proprio modo di stare attivi nella propria comunità e così via insomma quindi come molte altre ricerche sul consumo controllato è una mappa di comportamenti a dimostrazione del fatto che il consumo di una sostanza in questo caso la cannabis è un consumo nelle mani nelle mani delle persone che questo consumo lo scelgono dico solo una cosa interessante che è interessante nel confronto tra i tre contesti perché un focus di questa ricerca era sui cannabis e social club cioè ci siamo chiesti quanto una realtà collettiva strutturata organizzata come lo sono i club era funzionale a mantenere un consumo regolato per l'Italia come sapete noi non abbiamo i club nella formula con cui esistono in Spagna e in Belgio però abbiamo intervistato insomma alcune persone che fanno parte di realtà di movimento che si auto-organizzano su questo tema non è la stessa cosa ma insomma comunque anche dall'Italia abbiamo raccolto esperienze di dimensioni collettive e questo aspetto è molto interessante a proposito appunto poi di una proposta di regolazione legale della cannabis perché l'esistenza di queste situazioni così organizzate fornisce un supporto importante alle persone nel governo del proprio consumo per esempio rispetto alla conoscenza della qualità della sostanza che si acquista per esempio rispetto al fatto che viene a mancare tutta quell'ansia da illegalità che sta attorno all'acquisto in strada ma anche al consumo stesso per esempio la possibilità di riuscire a scambiare informazioni conoscenze e ad avere un luogo il club in quel caso in cui questo apprendimento che è un apprendimento sociale avviene in relativa sicurezza viene da dire no? e quindi è un apprendimento che riesce nei club riesce a mitigare invece quegli ostacoli che la proibizione normalmente contrappone al fatto che ci sia la creazione di una cultura sociale allargata chiudo dicendo che un altro aspetto interessante e vi rimando insomma al libro per approfondire questo è l'andamento delle traiettorie del consumo perché quando noi facciamo questo genere di interviste non chiediamo solo alle persone come stai consumando adesso ma cerchiamo di avere un po' una storia del consumo nella vita e quello su questo siamo molto debitori a Peter Cohen che sulle traiettorie del consumo ha particolarmente lavorato e quello che è interessante è che nonostante le biografie che abbiamo incontrato fossero molto diverse bene o male c'era una sorta di omogeneità in queste traiettorie cioè c'era un inizio di sperimentazione in età giovanile devo dire che le persone che abbiamo intervistato una standard era che avessero almeno dieci anni di uso quindi non erano giovanissime erano persone adulte con una storia di consumo interessante il fatto che queste traiettorie cominciano con un periodo di sperimentazione in età giovanile poi con un picco o dei picchi cioè dei momenti delle fasi della vita in cui il consumo diventa anche intensivo in genere in età da giovani adulti diciamo soprattutto da studenti oppure prima di una vita adulta strutturata e poi c'è una tendenza alla permanenza del consumo ma su livelli moderati e la linea diciamo è un po' oscillante perché magari nella vita ci sono momenti di alto e di basso ma tendenzialmente il trend cioè la linea tende sempre di più a un consumo sempre più moderato man mano che passano gli anni questo lo dico perché questo va come dire a favore di un discorso su un'evoluzione dei consumi che tende proprio a calibrarsi e a entrare senza impattare in maniera problematica nelle dinamiche della vita personale allora ci sembra che questa conoscenza che è una conoscenza scientifica faccio un inciso su questo ma lo diremo anche dopo nel nostro successivo intervento la ricerca qualitativa che è quella che si occupa dei comportamenti degli esseri umani e delle ragioni che gli esseri umani danno ai loro comportamenti è una ricerca scientifica tanto quanto quella fatta di tante tabelle di tanti numeri cioè la ricerca quantitativa lo dico perché nel campo delle droghe la ricerca qualitativa che si fa pochissimo perché nessuno ce la paga diciamo chiaramente e questo è un problema politico da mettere all'ordine del giorno di quella conferenza governativa perché come dire ci dovrebbe essere una politica della ricerca strutturata diversamente la ricerca qualitativa è una ricerca rigorosa che ha un suo metodo una sua serietà ma nel campo delle droghe viene fatta poco e viene ascoltata poco perché è quella ricerca che lavora su numeri piccoli ma perché va non tanto a trovare delle leggi ma va a indagare e a scoprire quello che ancora non si sa perché molto spesso una buona parte della ricerca che viene fatta nel nostro campo è a conferma di ciò che già si sa un vantaggio della ricerca qualitativa che è molto vicina ai soggetti che ci interessano è quella di aprirci qualche finestra su quello che già non sappiamo o su cui non abbiamo particolari sicurezze e temo che questo sia uno dei motivi per cui viene fatta così poco ma è anche uno dei motivi per cui è interessante farla allora mi sembra che nell'ambito di questo libro questo sia un pezzo in più poi da questo abbiamo tratto alcune raccomandazioni ma insomma sono un po' quelle che diceva anche Leonardo grazie io volevo soltanto dire che questo libro ha la prefazione di Franco Corleone la postfazione mia la scrittura di Leonardo Fiorentini che dopo quanti mesi sei mesi della conclusione dell'opera ci siamo ritrovati ad agosto a scrivere il testo insieme a Riccardo Maggi che anche più o meno una volta si sarebbe chiamata la compagnia di giro che è sempre una cosa negativa in questo caso noi siamo un po' l'eccezione delle compagnie di giro in positivo che non soltanto se la cantano se la suonano ma poi la portano anche in tournée Perduca si riferiva al fatto di scrivere il quesito referendario che è rimasto io ringrazio Susanna e Marco anche Franco per per la prefazione ricordo soprattutto perché è collegato non per chi è qui che lo sa benissimo che questo è il fuoriconferenza organizzato dalla rete per la riforma delle politiche sulle droghe che appunto proseguirà per tutto il pomeriggio adesso è con pochissimo ritardo per cui non se ne avranno a male non se ne avranno a male il momento di presentare una ricerca qualitativa condotta appunto da Susanna Stefano Bertoletti Claudio Cipitelli poi sicuramente mi sto dimenticando qualcuno Emanuele Perrone e tanti altri su i consumi delle persone che usano droghe e il covid si chiama protagonisti non ostaggi io lascio segue alle 17 la presentazione del libro è la dose che fa il veleno a cura di Guido Long Marco Perdu che è Tania Re ci sono sia Marco Perdu che è qui adesso ma anche Tania Re che è arrivata l'ho vista poco fa reality books e invece alle 18 c'è l'iniziativa promossa da Sinistra Italiana all'interno di questo fuori conferenza con amministratori pubblici a confronto sulla cannabis e il ruolo del referendum anche nelle politiche per le città io quindi chiamo al tavolo i redattori del prossimo intervento e vado in regia a provvedere a mettere la copertina della ricerca l'ultima cosa nel banchetto alle vostre spalle ci sono il mio libro ma anche tutti quelli della collana la raccolta dell'editore l'officina di Anche che abbiamo presentato questa mattina libri che sono tutti disponibili in tutte le librerie e negli store online